Complimenti, è stato uno spettacolo bellissimo, ci siamo divertite tanto e è stato bello anche per chi non capisce l'italiano perché è molto coinvolgente. Io invece mi sono divertita perché alcune volte mi facevate ridere. Lo spettacolo è bellissimo, molto coinvolgente, non soltanto per bambini ma anche per ragazzi della mia età. Quanti anni hai? Ho 20 anni. Brave, molto professionali, coinvolgenti. Le mie bimbe sono piccoline, era piccola 4 anni, ho visto lo spettacolo che era consigliato dai 5, come anche lei si trova bene fino alla fine, ho visto con i tempi, molto bravo. Die schönen damen hanno das sehr gut gemacht, gut musiziert und auf alle Fälle auch lustig für die Kinder. War total grossartig, die Musik, die Dramaturgie, Gesang, zwei super Talente und wir haben es geliebt, oder? Yeah! Dankeschön! Vielen lieben Dank für dieses tolle Konzert. Es hat den Kindern auf jeden Fall total Spaß gemacht. und für uns war es eine Bereicherung, auf jeden Fall für unseren Musikunterricht in der Schule. Passt wunderbar ins Thema und das war einfach ein tolles Ensemble. Vielen, vielen Dank! , vielen Dank!